e bella pescatori buongiorno pescata nuova oggi bolognese il lago era tantissimo che non faceva questa pesca è un posto veramente veramente bello posto nuovo sempre un'incognita perché non sai mai come va magari va bene magari cappotti ma comunque bisogna provare attrezzatura bolognese 7 metri lexler con sul 18 galleggiantino da 2 grammi che siamo contro sole oggi non è proprio massimo guadino materassino e ovviamente tutti i vari attrezzi come ami utilizzerò i mustados ho messo su questi da 14 per innescare facilmente sia il mais che eventualmente con lo stonfo anche i pellettini però adesso vedo che ho paura di incannare qualcosa di grosso mi hanno detto che ci sono pescioni e la profondità sui 4 metri il galleggiantino da 2 grammi tratto abbastanza bene vediamo un po se riusciamo a tirar fuori qualcosa di montatura con forse il controluce ma aiuta pallini a scalare ho fatto una prematura con 7 pallini a scalare più le più pesanti 0 22 fino a 0 18 girellina tripla con il fast 0 14 e ammetto parto subito col mais visto che ieri il mio caro amico gianluca ha avuto successo in innesco uno solo passante faccio uscire da sotto lo lascio risposto riesco molto semplice speriamo che oltre che semplice sia funzionale non spingono neanche tanto il lancio e ci siamo prima tucca subito prima tucca subito così pressione tirata e vediamo se non altro si è mosso qualcosa è positivo vediamo un po vediamo un po l'azione è più lenta di quello che pensavo però ripeto c'è tanta gente qua al lago e quindi diventa complesso se non altro per il discorso della quantità di pastura che ce n'è qua vediamo vediamo un po poi sono tutti carpisti quindi pescano potente io cerco i carassi quindi se riuscissi a farli venire qua sarebbe tanta tanta roba sinceramente no eccolo trota la trota assurdo assurdo la trota lo hizo era una trota qui ovviamente ci fanno anche delle gare a trote e ovviamente chi abbecca la trota io assurdo innesco di doppio chicco maes trota vabbè io che speravo nel carasciotto voglio un carasciotto se ne va ok prima l'amata pescione pescione o comanda lei non so se io la faccio a cavarla dai rami allora quando succedono queste cose e va eslamata puzzolina grossa ok trota ok questa non me l'aspettavo ma ok è la prima volta che faccio questo tipo di pesce così oh ho scappottato ma se può piano trota con un po' piano trota con la bolognese così col mais con trota con trota col mais cioè due carpe trota col mais perché la trota con l'acqua è una volta che la rinchiere perché l'altra videocamera sta facendo le business guarda 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 forza era un'altra riprovo a far partire l'altra videocamera lancio appoggio allento una volta a partire a videocamera ovviamente adesso funziona le videocamere e non mi abboccano è regolare purtroppo è proprio così che ha finito devo sicuramente rineschiare perché l'ultima mangiata ha fatto già l'esca non era bellissima l'ultima mangiata ha fatto sicuramente di fatti ha fatto sicuramente danno poi al mettere un'altra trota devo prendere un cucchietto di mostro non troppo grande perché sto innescando con un amino sempre moustad ma ancora più piccolo lo faccio passare completamente dentro cerco di tirarlo fuori da sotto e lo tiro fuori innesco easy ma funziona si è alzato il vento se mossa il pesce la profondità sembra giusta si riparte forza altra trota no mini trota non è che pare normale io col maes più la trota io non ci credo continuo a fare le trote va bene va bene non so pesce però altra trota fermate è un'altra trota direi che per stamattina per quanto è stata dura due carpe grosse una slamata una spaccata trote trote con il mais perché comunque ci tornerò adesso probabilmente domani non so se farò un video solo due video diversi cambierò tecnica non pescherò un po' la bolognese quindi magari faccio un altro video e cerco sto cavolo le carassi quando non le cerchi le fai quando le cerchi non le fai è matematico comunque come al solito se il video ti è piaciuto lascia un bel like iscriviti al canale e soprattutto ricordati che senpai si diverte bella